La mia prima domanda, salvo, è una domanda che è arrivata da Fabio Lalli, ed è Mi piacerebbe sapere qualcosa di più da salvo della Society of Kaufman Fellows. La Society of Kaufman Fellows è una costola della Kaufman Foundation, che è una delle più grandi istituzioni americane, delle fondazioni americane dedicate all'imprenditorialità, al venture e al networking globale. La fellowship è intesa come una sorta di graduation, dura due anni e nel corso di questi due anni, che richiedono un impegno abbastanza intensivo, sostanzialmente ogni due mesi, due mesi e mezzo vai a palo alto, fai dei seminari molto immersivi ed entri in contatto diretto, senza alcuna mediazione con i protagonisti del mondo dell'innovazione, delle start-up, del venture, eccetera. È una sorta di super-graduation molto legata all'ambiente della Silicon Valley, si svolge a palo alto ed è ovviamente focalizzata su attività di networking globale, di finance for innovation e, ultimo ma non ultimo, anche gestione, sviluppo, analisi della propria capacità di leadership globale, non soltanto in termini puramente manageriali, ma in termini più rotondi, come persona, come attore dell'innovazione, come soggetto in grado di spostare le cose un po' più in avanti. Si parla quindi di uno scenario abbastanza interculturale, comunque? Beh, la nostra, diciamo ogni anno viene selezionata una classe, la nostra classe che conta 38 persone, è una classe largamente intitolata alla cosiddetta diversity, ci sono ovviamente persone native native degli States, ma i protagonisti, diciamo, di questo ensemble sono, vengono da ogni parte del mondo, dalla Cina, alla Scandinavia, ai paesi arabi, al Messico, eccetera. Quindi ogni angolo del pianeta è largamente rappresentato. A questo aspetto si ricollega la mia successiva domanda, appunto, che era, secondo te, in che modo, sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista quantitativo, è diverso il contesto italiano, il background italiano per quanto riguarda, appunto, per esempio, la fondazione di una start-up rispetto agli Stati Uniti o altri posti nel mondo? Beh, è abbastanza diverso. Noi abbiamo provato con Working Capital anche a, diciamo, introdurre un framework culturale più ampio. Il 15 giugno, qualche settimana fa, è stato qui in Italia Greg Orovit, che è autore di questo meraviglioso libro dal titolo Rainforest, i segreti della Silicon Valley, dove in qualche modo, diciamo, il tentativo è stato quello di coinvolgere tutti gli attori dell'innovazione italiana intorno alla domanda perché da noi non funziona. Da noi non funziona principalmente per due ragioni. Posto che i fondamenti dell'innovazione sono quattro, cioè quelli che Greg chiama i pillars dell'innovazione, talento, idee, capitale e poi soprattutto trust. Noi abbiamo un problema soprattutto sugli ultimi due punti, cioè sul capitale e sul trust, perché di talenti e di idee ne abbiamo molti, tant'è che siamo i maggiori esportatori di talenti e di idee nel resto del pianeta. Sul tema della capital formation e sul tema del trust generale, l'Italia è abbastanza indietro. Quindi la riflessione che abbiamo lanciato, il cosiddetto crowd canvas, legato appunto al modello Rainforest di Greg e di Victor Wang, è un tentativo di fare chiarezza con noi stessi. Non c'è una pretesa di egemonia culturale da questo punto di vista e che senza capital formation e senza un sistema di trust in grado di far girare tutti gli elementi del sistema, l'innovazione resterà in Italia un tema da tavolo e da tavolo con poche gambe. Pensi che in questo scenario abbia un certo peso anche la pubblica amministrazione? La pubblica amministrazione spesso viene individuata come una sorta di panacea, come dire di atto risolutivo, definitivo, planetario o come repository di tutti i mali possibili. Io non credo che sia vero nell'una o nell'altra posizione. Credo che la pubblica amministrazione sia lo specchio di questo paese, della sua storia, del modo in cui peraltro si è formato il nostro carattere, la nostra identità nazionale. Quindi francamente mi sembra uno dei punti, ma non il punto chiave. Quando risolveremo i temi di cui discutevamo prima, risolveremo anche i temi della pubblica amministrazione, né più né meno. Senti, io ho visto le slide della presentazione di Orvit di qualche giorno fa e ho trovato affascinante proprio il presupposto, chiamiamolo culturale, che ci sta sotto, di un certo tipo di volontà di collaborazione che invece moltissimi negano esista in Italia, che invece sarebbe più improntata alla competizione. Sei d'accordo con questa riflessione? Per certi versi sì, nel senso che l'Italia che è il paese dei mille territori e dei mille campanili ha un grado di conflittualità interno a ogni microsistema che è abbastanza facile da rilevare sotto gli occhi di tutti. È anche vero che in Italia esiste un humus, una cultura legata anche alla tradizione cattolica, se vuoi per certi versi, il volontariato, il terzo settore. Non è sempre vero che la competizione ottusa e volta alla distruzione del nemico, piuttosto che all'avanzamento di un qualsiasi progetto sia il tratto dominante. È un pericolo, soprattutto dove gli ambienti si fanno chiusi, dove non penetra la diversity e dove in qualche modo l'eredità, il retroterra, i culturali, i territoriali la fanno da padrone. Perfetto, parlavi prima di working capital, ti volevo chiedere un po' a che punto siamo, come è andato? Bene, working capital entra quest'anno nella sua quarta edizione, abbiamo iniziato nel 2009, in questi anni è cambiato tutto, nel senso che quando abbiamo lanciato il progetto, il programma o comunque lo vogliamo chiamare, la situazione era molto diversa da quella di oggi, una situazione in cui il tema dell'innovazione, delle start up, della creazione di nuove piattaforme, di nuove imprese internet era abbastanza freddo, non c'era una grandissima attenzione da parte del sistema, non esisteva un ecosistema sostanzialmente, siamo stati tra quelli che hanno iniziato un percorso, quindi siamo contenti di avere in qualche modo contribuito a un cambiamento di clima, nel corso di questi anni poi sono intervenuti altri fattori, sostanzialmente sono cambiate due cose, da una parte il tema è entrato nell'agenda del Paese, grazie allo sforzo di tutti, di tutti noi intendo, dall'altro la necessità in qualche modo di spingere la crescita è diventato un fatto determinante nella soluzione della crisi, quindi Working Cavital ha dato il suo contributo, si è evoluto, è cresciuto, ha costruito e sostenuto moltissime realtà, sia a livello di grant, sia a livello di progetti di impresa, lo scorso anno abbiamo fatto una sorta di joint venture con il premio nazionale innovazione, coinvolgendo come sai migliaia di persone in un tour che ha attraversato tutto il Paese, in qualche modo mi piace pensare che questo sia stato un po' l'inizio di una sorta di riscossa nazionale, poi ovviamente adesso aspettiamo tutti gli interventi strutturali lungamente discussi e attesi da parte del governo, dei corpi intermedi eccetera, anche perché se non cambiamo alcune condizioni di base non basterà certo Working Capital a cambiare il destino dell'innovazione del nostro Paese. Sai, parlando con qualche start-upper, uno degli elementi individuati come più problematici era il fatto che ad esempio all'estero per poter far partire la propria start-up fosse necessario soltanto ottenere quelle due o tre autorizzazioni, nel giro di pochi giorni si poteva partire, mentre in Italia ci vogliono mesi. Quanto influisce secondo te questo aspetto? Questo è un aspetto essenziale e non è un caso che sia anche al centro della riflessione di Greg Horowitz e di Victor Wang. Tu hai letto il libro e hai visto quanta parte abbia il tema dei cosiddetti transaction cost. È una teoria, in realtà un'osservazione pratica meravigliosa che Greg e Victor riprendono e trasformano in una sorta di cartina di tornasole per misurare quanto un sistema sia in grado di funzionare. I transaction cost nascono dall'intuizione di un premio Nobel per l'economia, Ronald Coase, ed è sostanzialmente il costo di transazione che è richiesto a ognuno di noi per portare a termine un compito, un progetto, un'idea, un tentativo. Quando questi transaction cost sono molto elevati, il sistema tende ai rigidisti a non funzionare più. Noi siamo in questa condizione, i transaction cost interni al nostro paese sono molto elevati e un intervento deciso in questa direzione è il prerequisito perché qualunque tipo di iniziativa, di progetto, di nuovo quadro legislativo possa funzionare. Senti, a proposito di ecosistemi, ci sono diversi esperimenti, tentativi in Italia in questo momento per quanto riguarda le aggregazioni di start-up e start-up, da indigeni digitali ad altri progetti che cercano di portare insieme le persone che fanno innovazione per tentare anche di aiutarsi a vicenda, effettivamente. Quanto pensi possano aiutare? Che cosa ne pensi di queste realtà? Penso molto bene, nel senso che in assenza di una community viva, vibrante, capace di trasmettere in qualche modo da una parte la cultura dell'imprenditorialità, dall'altro le informazioni che servono, è evidente che il sistema si bloccherebbe immediatamente. queste community, queste realtà, tutte le organizzazioni che ruotano intorno al tema dell'innovazione, delle start-up, dell'imprenditorialità, sono un fatto estremamente positivo. La velocità delle idee e l'altro prerequisito, oltre alla velocità del capitale, cito sempre ormai la nostra Bibbia, chiaro, mi riferisco sempre al libro Rainforest, sono un altro dei requisiti perché il sistema possa girare e possa entrare a regime in qualche modo. Quindi benvenute tutte le organizzazioni e tutte le strutture che in un modo o nell'altro tentano di seguire questo percorso. Qualche tempo fa mi ricordo che mi aveva molto colpito il fatto che il claim di una delle edizioni di working capital, appunto, stavamo cercando mille idee e ne sono arrivate quasi duemila, se non sbaglio, giusto? Sì. Mi aveva molto colpito questo aspetto, anche e soprattutto considerato il fatto che siamo in un periodo di crisi non indifferente. Come spieghi questo fenomeno? Penso che il cosiddetto materiale umano, è un'espressione orribile ovviamente, italiano sia di grandissima qualità. Io ho girato l'Italia più volte dall'inizio di working capital, quindi ormai tre anni e mezzo, più di tre anni fa, con il team, con Gianluca Dettori, con tutte le persone che ci hanno dato una mano. Abbiamo attraversato il paese lungo e largo più volte e ogni volta ci colpiva, ci ha colpito la straordinaria passione, capacità ideativa e la qualità dei talenti che abbiamo incontrato in questo cammino. Quindi a me, francamente, la cosa non mi ha stupito moltissimo. Tu ti riferisci all'edizione dello scorso anno, quella cerchiamo i 9000, in realtà erano più 2000. Francamente è una buona conferma, è anche come dire il test, la risposta che ti dà il paese quando viene sollecitato sui temi giusti. Mi voglio ricollegare al fatto del viaggio, dell'avere attraversato l'Italia. Ci sono in atto diversi tentativi di geolocalizzare le start-up italiane e di metterle effettivamente sulla mappa, con risultati sorprendenti a volte. Quindi ti vorrei chiedere, secondo te, quanto è vero l'assunto, tra virgolette, che le start-up stanno specialmente al nord e soprattutto qual è la differenza tra nord e sud da questo punto di vista? Noi abbiamo uno dei database probabilmente più consistenti sul tema, nel senso che comunque abbiamo 15.000 persone, aspiranti imprenditori iscritti a working capital nel corso di questi anni. Mappando in qualche modo la provenienza sia della semplice iscrizione, sia delle persone che hanno in qualche modo sottoposto progetti di ricerca di imprese o business plan, quello che viene fuori è che certamente esiste un tema Milano-Roma, ma questo lo sapevamo, è abbastanza intuitivo, non c'è niente di nuovo in questo, ma ti direi che la mappatura delle start-up italiane rivela il carattere, se vuoi, urbano-metropolitano del tipo di impresa che si vuole costruire, la dorsale delle grandi città e la dorsale lungo la quale corre anche il tema delle start-up, con alcune eccezioni che sono abbastanza rilevanti, ma che sono dovute probabilmente a fatti, se vuoi, della nostra storia recente, per esempio la Sardegna, pur non essendo una regione metropolitana, è un luogo in cui sono presenti molte realtà, ma è abbastanza evidente che esiste una storia che va da Grauso, Assoru, Tiscali, eccetera, a Mariani oggi, Mario Mariani, che ha in qualche modo, se vuoi, installato una certa cultura in quella regione, poi per il resto la dorsale delle città spiega quasi tutto. Ci sono vari tentativi, esperimenti, diciamo, che ormai vengono soprannominati con il suffisso Valley in Italia, da Mestre Valley, che sarebbe Age Farm, a Etna Valley, il recentissimo nato Start-up City di Catania, ad esempio. Ti vorrei chiedere che cosa ne pensi di queste realtà, specialmente Age Farm? Le Valley, rispetto alla Silicon Valley, sono difficilissime da replicare, perché come ci dicevamo prima, mancano due dei quattro fattori fondanti. Detto questo, non possiamo permetterci come Paese, a livello di risorse complessive, probabilmente non ci possiamo permettere di concentrare le risorse in molti territori o in molte aree e quindi zone che hanno una vocazione produttiva technology, Oriented o se vuoi che hanno in qualche modo una cultura stratificata in questo senso, si pongono oggi come luoghi di aggregazione di questa nuova imprenditoria e lo fanno ovviamente con modelli anche diversi. Quello di Treviso, di Mestre, di Age Farm è un modello molto interessante e in qualche modo forse è l'unico grande incubatore privato, a parte sporadiche eccezioni, oggi nel nostro Paese. Quello della Etna Valley, io sono stato di recente perché abbiamo fatto pure una tappa di Working Capital, siamo stati a Startup Weekend, abbiamo incontrato delle persone meravigliose con una grandissima voglia di fare, c'è il tema della riconversione, la Etna Valley era legata a un'industria che oggi forse non esiste più, era un tema, uno slogan che correva 20 anni fa, ai tempi delle sindacature di Enzo Bianco. Oggi Catania deve riconvertirsi, quindi deve trovare un destino diverso su un'idea di industria che è completamente differente. Da questo punto di vista mi sembra una bella iniziativa, le persone che sono sul campo rappresentano tutti i fattori possibili di produzione, ci sono delle eccellenze già abbastanza marcate, è possibile che ce la si possa fare anche lì. Quindi secondo te questa spinta all'innovazione, specialmente in territori come Catania, può effettivamente portare a un rilancio anche dell'economia italiana? L'economia italiana è un'economia in cui non dobbiamo perdere di vista, come spesso mi dice il mio amico professore Francesco Sacco che insegna la Bocconi, l'economia italiana è un'economia che è ancora largamente manifatturiere, la nostra industria manifatturiere è la più importante d'Europa, subito dopo la Germania, diamo filo da torcere in molti mercati, abbiamo imprenditori giovani, anche family business consolidati, non dobbiamo pensare che l'innovazione sia soltanto quella che viviamo noi. Spesso commettiamo questo errore, quello di scambiare l'innovazione, l'imprenditorialità e la possibilità di crescere nel nostro paese per dei temi che ci sono più vicini, perché siamo tutti più o meno internetari, perché abbiamo fatto le nostre esperienze fondamentali dentro questo mondo e non dobbiamo perdere di vista tutto il resto. Poi detto questo, che sulla scena digitale, sul mondo rappresentato da internet, si giochi la più grande innovazione dell'ultimo secolo, io sono abbastanza convinto, quindi con un certo giudizio e lavorando su più pedali, penso che a parte tutto, senza innovazione nel paese si ferma, anzi si è già fermato, come abbiamo visto i dati, sono terrificanti. Infatti, un'altra domanda che volevo farti era, secondo te quanto influisce anche la questione delle infrastrutture sulla velocità con cui va avanti questo cambiamento? Penso banalmente alla banda larga, ad esempio. Il tema delle infrastrutture è un tema fondamentale, un tema importantissimo, senza infrastrutture ovviamente proiettate verso il futuro è chiaro che non avremo una risposta generale dell'ecosistema all'altezza delle nostre attese, delle nostre speranze, lo intendo collettivamente come paese. Spesso si è confuso però questo tema, nel senso che per molti anni e ancora oggi siamo subissati da convegni, incontri, confronti di vario tipo su questo tema. Non bisogna però scambiare il mezzo con il fine, le infrastrutture sono fondamentali ma non sono tutto, senza una cultura adeguata, una diffusione adeguata di un certo tipo di capacità, senza la cura di un digital divide che comunque è anche culturale, guardiamo sempre i dati da cui partiamo e rischiamo di fare a volte delle infrastrutture pletoriche che non servono assolutamente a nulla. Orientiamo bene gli investimenti, cerchiamo di capire quale direzione ci permette il risultato migliore nel medio termine. Ti faccio la domanda inviata da Jacopo Paoletti, che dice, da Salvo mi piacerebbe sapere quali consigli ritiene di dover dare a chi oggi vuole fare nuova impresa partendo dall'innovazione. Purtroppo, soprattutto in Italia, troppo spesso molte persone parlano di start-up e si vendono come esperti, più per moda che per reale esperienza diretta. Bene, vale il principio, bisogna in qualche modo individuare quelli che sono i cosiddetti keystone, cioè le persone chiave di questo sistema. Ci sono delle figure che vuoi per esperienza, vuoi per capacità di innovazione, si pongono oggi nell'ecosistema italiano come dei punti di riferimento. La visuale è abbastanza chiara, ci sono delle persone che sono sì e delle persone che sono no. Queste persone sono facilmente rintracciabili e devono essere in qualche modo il punto di riferimento della nuova leva. Queste figure sono centrali anche nella Silicon Valley, sono le figure che generano trust, che chiariscono obiettivi, che sviluppano sistemi di mentoring, che danno in qualche modo gli obiettivi e che sono capaci anche di aiutare la convergenza di capitali su singoli progetti o su progetti, come li chiamavi tu prima, territoriali o microterritoriali. Dobbiamo scegliere bene le persone di cui fidarci e alla fine non c'è altro che questo, nel senso oggi come ieri chi vuole fare una start-up deve avere delle figure di riferimento. Se riusciamo in qualche modo a sostenere anche le figure di riferimento, facciamo un bel passo avanti. Senti, ultima domanda. In base a quella che è la tua esperienza, come pensi evolverà questo scenario in Italia? Penso che, francamente penso che lo sviluppo delle tematiche digital, innovazione, internet, eccetera, sia uno sviluppo ineluttabile e inevitabile. Penso che avremo ancora delle false partenze, penso che avremo qualche buon risultato. Penso che complessivamente questo ecosistema andrà avanti. Non sarà facilissimo. Perfetto. Salvo, io ti ringrazio veramente tantissimo per il tuo tempo e per la disponibilità. Grazie a te. A presto. A presto. Grazie a te.